Strada per il mare. Ho lavorato per una piccola azienda di autotrasporti di Verona qualche anno fa. Portavo pacchi e pacchettini da un punto all'altro della provincia. Raramente capitava che avessimo consegne più distanti, come quella mattina ad agosto. Dovevo andare su per Val Dobbiadene e faceva già caldo. Mi ritrovai in riserva in un paese della provincia di Treviso di cui non ricordo il nome. Le strade laggiù si assomigliano tutte. Un fosso al lato, platani e una rotatoria poco più in là. E proprio nei pressi di un incrocio trovai una stazione di servizio. Quando scesi dal furgone, un uomo uscì da una cabina dalle pareti di vetro riflettente e mi venne incontro. Indossava una tuta da lavoro e un cappello col logo dei pneumatici Pirelli. Benzina o diesel? Mi chiese. 50 euro. Diesel, dissi. Notai che era affetto da strabismo. Quel genere di strabismo in cui non si sa mai quale occhio fissare. Per non sentirmi in imbarazzo, alzai lo sguardo verso il cielo terzo. C'è un bel sole oggi, dissi. Eh già, disse lui, sfilando la pompa dal distributore. Armeggiò un po' col tappo e poi lasciò andare il tutto, appoggiandosi al furgone. Mettevano pioggia, ma speriamo sia una bella giornata per chi va al mare. Per me no, di sicuro, dissi io. Neanche per me, disse lui. Si aggiustò il cappello e mi osservò con quello che mi pareva essere l'occhio buono. Di dove sei? Mi chiese. Di Verona, gli dissi. Bella Verona. Lo sai che avevo una ragazza sul lago di Garda? Disse questo come se si trattasse dello stesso posto. Sentivo lo scorrere del carburante nel serbatoio. Guardare il display e mi accorsi che mancavano ancora una ventina di euro. Non stavamo male insieme, continuò lui. Una bella fortuna, dissi io. Lui non disse nulla. Davanti a noi i numeri bianchi del contatore turbinavano. E poi com'è andata? Gli chiesi. Lui si sistemò il berretto rivolgendosi verso di me e con ampio gesto della mano mi indicò il piazzale e il piccolo ufficio. Poi ho avuto questa offerta qui, disse. Guardai l'ampio spazio di cemento scuro e le pareti di vetro della cabina. Vidi le nostre immagini riflesse. Mi hanno proposto di gestire questa stazione di servizio, continuò lui. Sai, il capo si è fidato di me e ha fatto bene. Adesso sono qui, gestisco tutto io. Faccio quello che voglio. E tornò a guardare il display con l'occhio buono. Spostai lo sguardo verso i platani, lungo la strada. Uno era morto. Avevano provato a tagliare i suoi rami, ma non era servito un granché. Gli altri, però, sembravano passarsela un po' meglio. Ma ne passa di gente qui, gli chiesi. Tu non hai idea di quanta gente si perde per andare al mare, disse lui, staccando la pistola dal furgone. La sistemò e si rivolse verso di me. Mi chiedono come si arriva al mare. Io gliela spiego la strada per il mare. Poi ogni tanto si ricordano di fare benzina, ridacchiò. A volte mi chiedo se il mio scopo nella vita sia di indicare la strada agli altri. Risi anch'io. Con me ti va male, dissi. Io devo andare verso le montagne. Lui si pulì la mano con uno straccio. Bene, disse. Bancomat ho contanti. Bancomat, risposi. Allora vieni, disse. Ci muovemmo verso la cabina ed entrammo. Prima lui, poi io. Lui superò il bancone. E dietro i profumatori per auto prese la carta. Codice, disse. E mi allungò il post. Sbagliai due volte. Lui mi fissò con l'occhio buono. Ciò ai contanti, dissi. Ci manca solo che rimanga a piedi col Bancomat. Eh già, disse lui. Afferrò la banconota e mi timbrò la scheda carburante. Quando salì sul furgone quasi non mi accorsi che lui mi stava salutando. Intanto una macchina targata a Germania stava entrando nel piazzale. E io lo vidi andarla incontro, mentre si aggiustava il berretto della Pirelli. Grazie.